Campiacini, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio della Big Vanilla 2 Qua il vostro Demarchi vi parla, vi dà il benvenuto In questo nuovo episodio penseremo al regalo di Natale per Steph e Fere Che si trovano ovviamente dietro di noi Ho notato che si stanno allargando e piano piano stanno iniziando a costruire anche loro molte cose carine E lei in fondo ho notato il primo lavoro di Fere Dubito fortemente che Steph si sia messo lì a costruire Però lasciamo un po' così il dubbio in generale a tutti quanti Ma come vi avevo detto e come vi avevo anticipato Il regalo di Steph e Fere si dividerà in due parti ovviamente Un regalo per Fere e un regalo per Steph Ho notato anche che Marci ha fatto un piccolo collegamento per arrivare direttamente a casa nostra Finalmente almeno ci possiamo muovere con un po' più di calma Qua possiamo anche noi direi migliorare un pochino questa parte qua di mondo E devo anche raccogliere il cibo dalla farm di mucche Che purtroppo è ancora buggata ragazzi non ci possiamo fare niente Perché sono tutte quante ancora dall'altro lato Però comunque andremo a sistemarla promesso Abbiamo ottenuto nove pezzi di carne cotta Ottimo Ma come vi dicevo questo episodio lo occuperemo principalmente per i ragazzi Andiamo a prendere quindi un cavallo bianco per Steph Che in realtà è anche per Fere Ma invece per Fere stessa andremo a costruire un insieme di utensi di Minecraft in diamante Spero anche incantati per bene Perché ho notato che Fere in questa nuova stagione della Big Vanilla 2 Si sta cimentando tantissimo all'interno del mondo delle costruzioni Di conseguenza vorrei darle una mano Vorrei dare degli oggetti che sono comunque molto utili per Ney E so che per esempio Kendall ha sbagliato il gatto da regalare a loro E ho notato che ha rischiato veramente tantissimo E ha preso un voto veramente basso Non vorrei rischiare ancora di più di quello che già sto facendo con Garibaldi Perché sarà molto difficile da trovare E quindi ho pensato come poter ottenere un buon voto Perché tutti quanti apprezzano sempre degli utensili anche ben incantati se riusciamo E soprattutto spero di conoscere bene Garibaldi in tutte le stagioni e le serie che abbiamo fatto E di poterlo trovare Tecnicamente in esplorazione Quando avevo mezzo cuore mi ero avvicinato nella zona dei pillager che c'è sopra questa montagna Ma andiamo curicino al nostro amico Carpi E avevo notato che qua da qualche parte c'era un cavallo bianco Che poteva assomigliare a Garibaldi tecnicamente Ciao! Eccolo qua Questo cavallo potenzialmente potrebbe assomigliare al nostro piccolo Garibaldi Ora proviamo un attimino e riusciamo a vedere se riusciamo a timmarlo Vediamo so brutto quanti cuori ha e quanto può essere veloce So brutto ci manca una sella Dopo andrò a prenderla Ora voglio solamente timmarlo perché così non lo facciamo despawnare O in qualunque caso non lo facciamo morire Però è ostico Già è molto simile a Garibaldi perché era difficilissimo da timmare E mi raccomando commentate ragazzi perché ci tengo veramente tantissimo Con un regalo che posso fare a Marci Nei commenti scrivetemelo perché il vostro commento con più mi piace Sarà quello con cui prenderò lo spunto per fare il regalo per il mio amico Marci Intanto il nostro cavallo si è timmato Vado a prendere il sellino che me lo sono dimenticato Che dovrebbe essere qua da qualche parte Mi hanno rubato la sella Perché l'avevo lasciata a fianco l'ametista E allora calma perché ho la corazza di diamante Però mi sembra strano che a questo punto mi hanno portato via solamente la sella e non la corazza Ma ero sicuro di averla per questo video Dannazione è stato qui a tre giorni Allora ho in mente una cosa Facciamo così Prendiamo la corda E ci portiamo via direttamente il cavallo È un peccato perché a questo punto è l'unico modo che posso Fare E in questo modo posso solamente spostare il cavallo Senza comandarlo Utilizzarlo direttamente io Peccato Ma ovviamente ragazzi non era solamente questa la mia idea Perché sì possiamo lasciarle anche la corazza in diamante Non saprò che velocità Spero che avrà un'ottima velocità E per riprodurlo e per far sì che sia super veloce Mi serve un altro cavallo bianco Che in zona non c'era E dato che ho poco tempo per fare tanti regali a tutti Devo un pochino stringere con le possibilità Ma ho pensato di creare anche una mini stalla Aperta vicino a casa loro Dove poter lasciare il cavallo Quindi devo anche costruire una piccola stalla E per quello ho già abbastanza oggetti Quindi legno di spruce Ma non solo Anche della stone Dei blackstone e tanto altro Quindi abbiamo tanto lavoro da fare Oltre che agli attrezzi per fare Qua però abbiamo una festa enorme E potrebbe essere giusto un attimino pericoloso Creeper se vuoi esplodere mi fa un favore Per favore esplodi Ok grazie Carpi mi ha scritto Purtroppo Stavo riscrivendo e stava arrivando anche un creeper Ora che sembra proprio tranquilla la situazione Prendiamoci finalmente il cavallo Ha perso tutto Carpi Povero No Mi dispiace un sacco Povero Carpi Beh abbiamo appuntato che Carpi ha bisogno di un libro con fortuna 3 Quindi ci teniamo anche questo piccolo dettaglio Quindi sia Lightning che Carpi hanno bisogno di un libro con fortuna 3 Abbiamo appuntato i loro regali Certo mi verranno a costare tanto Ma voglio anche un bel voto Stare attento a non colpire il cavallo Ottimo Meglio l'ho scritto Voglio però un bel voto Ora non ho blocchi Però tecnicamente il cavallo potrebbe seguirmi Vieni con me cavallino Eccolo qua in fondo Il nostro piccolo Garivaldi Dovrebbe essere tecnicamente uguale Creeper non è il momento No 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 Ci sono due scheletri che stanno cercando di colpire me e il cavallo Cavallo vieni con me Nico Cosa ci faceva in casa mia? Ehm Cosa ci faceva in casa mia? Campione Dici la verità Nico Ah è andato a rubare? Ragazzi Nico mi ha rubato qualcosa in casa Guardate Io non ho veramente parole Manco un secondo per andare in missione per il cavallo E mi inizio a rubare tutto Lascia via tutto quanto nello smistamento Vediamo cosa potenzialmente potrebbe avermi rubato La mia smiting template Ladro? Non ho veramente parole ragazzi eh Questo me l'assegno A fare preparo tutti gli attrezzi principali Quindi ascia Piccone e Pala Ti sta salvando dicendo Che lì serve un punto per stare FK Per far crescere gli albri Ma a me è sparita la smiting template ragazzi Che era qua O almeno Magari se l'era già portata via Mi aveva sloggato in casa Non mi ricordo se inizialmente l'avevo vista Comunque Già che ci sono regalo anche una bella spada Fere La zappa non credo che le serva Voglio prendere anche dei lapis Quindi li vado subito a prendere Con 15 livelli magari qualcosina posso fare Soprattutto per il fatto Che in realtà Ho già un po' di libri incantati Però vediamo un attimino qui cosa possiamo ottenere La spada la facciamo per ultima Perché non è un oggetto di costruzione Urca Partiamo con una bella Ascia con efficienza 2 Per fare poi un piccone con efficienza 1 E una bella Pala con efficienza 1 Ed è già un buon inizio Peccato perché per colpo di Nico Non posso mettere le nederite In uno di questi oggetti Perché mi è rubato la smiting template Nella zona dei libri Ho poi la possibilità di poter mettere Magari un'efficienza 2 Alla piccone Magari se ho anche un unbreaking Potrebbe essere veramente ottimo Che potrei dare Sempre al piccone Potrebbe essere molto utile come cosa Quindi andiamo Direttamente qua Sulla nostra anvil 1 e 2 E si fa così Poi 1 e 2 Si fa efficienza 2 E unbreaking 2 Poi a questo punto Per non lasciare sprovvista la spada Direi che un piccolo enchant Gli lo possiamo lasciare Con uno sharpness 1 Che unito con questo libro di sharpness 1 Che già avevo da parte Diventa sharpness 2 Almeno Comunque Gli ho costruito degli attrezzi Che possono essere super utili Per la costruzione Il cavallo è ancora qua Purtroppo fuori Sta sorgendo dal sole Ma Continua a piovere E potrebbe essere Un enorme problema Per i mob che ci sono in giro Ecco il fa Allora Nicolò Tu stai veramente rischiando oggi Guarda come si sta parando Non ce l'ha lui Ma io non ho parole ragazzi Qualcuno l'ha presa Qua dobbiamo indagare Perché è un oggetto Molto raro E molto importante Però vabbè dai Ci pensiamo in un secondo momento Facciamo una piccola cosa Saliamo sul cavallo E mettiamo direttamente qua L'armatura in diamante Perché non si sa mai Cosa può succedere qua attorno Voglio controllare Che tipo Di oggetti ho in spruce Perché se me e feri costruiscono Molto in spruce Se no Intanto vado anche a farmarlo Prendiamo direttamente questi Dovrei avere anche Dei sapling qua attorno Solo quelli di Oak Allora mi prendo le mie ossa E il mio bone meal 1 e 2 E come immaginavo La zona È completamente piena di mob Comunque tutto ciò Nico ancora non si è ricordato Che io ho il suo arco Quindi fino a quando non mi torna la mia smiting template Io mi tengo su arco Principalmente loro costruiscono in spruce A quanto vedo E andesite Ok Ora Abbiamo qua davanti Degli alberi di spruce Io con me ho parlato del bone meal Perché in questo modo posso Abbattere e raccogliere Tutto lo spruce Che ho a disposizione E in più ripiantare il sapling Dell'albero stesso Che andrà a cadere Così facendo Farò crescere Nuovi alberi di spruce Così Non toglierò loro Nessuna risorsa E posso costruire tranquillamente Questo è d'arcoach Mmm A me serve questo Lo spruce Purtroppo la pioggia Non si può neanche togliere Quindi siamo costretti A tenercela per tutto il video Probabilmente Però non è un problema Perché voglio continuare A scavare un sacco di spruce C'è un piccolo problema Su come è sponato questo albero Sto ripiantando Tutti quanti i sapling Che ho ottenuto Almeno poi Per i ragazzi Avranno ancora più alberi Rispetto a quelli che avevamo prima Ora Voglio andare a vedere E capire In che zona Poter posizionare La nuova stalla Perché Conoscendo Steph So Che vorrà un punto Abbastanza comodo Così da raggiungere Appena esce di casa Però Come noto In questa zona È già più o meno Tutto quanto costruito E ben preso Forse L'altro lato Cioè quella parte di là Hanno già un cavallo Invertiamo i regali Non sapevo Ad essere un Garibaldi Ma non l'avevo neanche mai visto In giro Vabbè Facciamo i Garibaldi per Fere A questo punto Una trassi per Steph Però Assieme Allegherò Una doppia stalla Che potrei costruire In questa zona Dove hanno questi alberi Di Oac Oh Si è tolta una pioggia Finalmente Ok Ora posso costruire Con molta più calma E con tanto amore Sarebbe geniale Regalare a Fere Il cavallo E chiamarlo Garibalda Perché è come se fosse Il cavallo Felmina Ho terraformato un po' questa zona Tolgo tutte quante le erbacce Che ci sono in più Controllo la stazione Sapling Così posso raccogliere E piantarne altri Eh che persona premurosa Che sono Appena finito di piovere Ma sta pure calando il sole Quindi ancora notte Facciamo così Una bella cassa Così possiamo mettere via Gli oggetti che già Abbiamo creato Quindi quelli incantati 1, 2, 3, 4 In più secondo me Stanno tanto bene Gli oggetti Cobblestone Con la Spruce Quindi prendo almeno 4 stack di Cobblestone Quindi essendo che Dove essere una doppia stalla Direi Che deve essere comunque Più sul lungo E non molto profondo Quindi farm giusto Ancora un pochino di dirt In più E allargo un po' di più Questa parte qua di mondo Con questo terriccio Per ora Delimitiamo la zona Almeno cerchiamo di capire Quanto è grande Qua facciamo una parte Dispari Quindi qua si ferma Direi che noi ci possiamo Allungare fino a questa parte qua Questa è pari o dispari? Dispari Perfetto E ci fermiamo qua Ottimo Abbiamo già delimitato la zona Questa è la parte centrale Che dividiamo magari Con questi muri di Cobblestone E fin qua ci siamo Direi che qua al centro Possiamo mettere Delle mini piccole colonne Di Cobblestone Che secondo me Stanno tanto bene Piazziamo questa crafting E iniziamo già a fare Magari degli oggetti Che possono essere molto utili Come le varie fence O i gate Prendo anche dei shroom light Che potrebbero essere comode Per la costruzione che ho in mente Perché le piazzerà in questo modo Ciao lightning Così abbiamo illuminato Questa parte con le shroom light Abbiamo fatto anche Qualche piccolo dettaglio Continuerei con i vari Pezzettini di fence Qua di spruce Senza sbagliare Attorno per chiudere Per bene Perché così Non possono scappare i cavalli E abbiamo chiuso Ora Dobbiamo pensare un po' al tetto E per fare ciò Vorrei uscire Almeno di un blocchettino E iniziare con le slab Perfetto Proprio in questo modo Volevo farlo Con questo tetto Che sale E poi scende Nella zona centrale Mi piace molto Perché ci sono un sacco di dettaglini Che mi fanno impazzire Adesso però È in realtà Arrivato il vero momento Per dettagliare Quindi iniziamo Già a togliere la corteccia Questi qua Poi metterei Qua le scale negli angoli Così dettagliamo giusto Un pochino di più Mi piace il fatto Che sia sfalzato in questo modo Qua magari possiamo togliere E mettere una bella shroom light Quindi mettiamola subitissimo Ho preso del ferro Perché in questo modo Possiamo andare a fare direttamente Delle chain E poi anche fare delle lanterne Ora Voglio prendere questo coal E trasformarlo direttamente In quelle che si può utilizzare E fare delle torce Con cui fare delle lanterne 5 possono abbassare Non lo so Ne farei altre Questo lo ritrasformo così 2 chain Dovremmo farne un po' di più in realtà 4 dai Vanno bene Forse qua potrebbe stare meglio Questo qua Che non fa vedere Quale lato è quello conclusivo Cioè dove si vedono praticamente Le venette dell'albero Qua potrebbe stare meglio Una bella lanterna Che scende giù in questo modo Stessa cosa per questo lato Con le lanterne così Vediamo No magari questa qua dietro È un po' bruttina Però forse in questo modo Non passano i cavalli Quindi le toglierei Piuttosto piazzerei Delle fence sui lati In questo modo Molto meglio Oppure appese Qua in alto Ancora più carino Vediamo 1 e 2 Ok Sì meglio Togliamo da questo lato E qui ho fatto questo dettaglio Di scale Con una shroom light Là sopra Giusto per fare qualche dettaglio Un po' più pazzo Non so Mi è venuta in idea Un po' così stranina Però sembra molto carino Ora All'interno vorrei mettere Sicuramente delle eibail Quindi quasi quasi Li rubo a loro il grano Perché tanto vado a ripiantarglielo E 4 eibail Credo che possono anche bastare No forse ce ne servono Giusto un po' di più Qua con la palla Facciamo un po' di terriccio Che rende più giustizia Al fatto che è una stalla E li mettiamo in questo modo Specchiati Qua chiudiamo E ora direi Prendiamo garibaldi 1 Che Mi sembra abbastanza lento In realtà Forse abbiamo fatto Bene Qua Questa lanterna Potrebbe causare dei problemi Qua potrei mettere Un doppio gate Per farlo muovere Più tranquillamente Proviamo Ah Attenzione No 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 Abbiamo un problema Prendo due gate Lui entra e esce tranquillamente Senza saltare La cosa è ottima Qua è da chiudere Quindi proviamo a chiuderlo Direttamente con un bark Così Sì ci sta Di là Lui si intrattiene Cercando di saltare Dal lato opposto E direi che Come struttura È terminata Abbiamo messo qua I due gate Per ogni lato Guardate come stanno Molto bene Poi anche il fieno L'abbiamo posizionato In modo secondo me Perfetto Ora Ho dettagliato Con dei crackhead stone brick Così in questo modo Anche con le trapdoor I cavalli Non possono uscire Nemmeno da questo blocchettino Secondo me È uscito un lavoro Molto 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 pulito Adesso Ho scoperto che in realtà Garibaldi Che si trova in questa zona È un regalo Di Nico Quindi da qua Non voglio spostarlo Voglio che loro comunque Lo vedano Tutto quanto C'è scritto qua Per Steffo Da parte di Nico Poi Se loro vorranno utilizzare La stalla che io ho costruito Per i loro cavalli È qua a disposizione Io li porto Secondo cavallo Perché ho notato Che il cavallo di Nico È un po' lento Come vi dicevo So che Steff predilige Cavalli lenti So brutto che saltano Molto in alto Di conseguenza Regalando Garibalda Che è un cavallo bianco Potrebbero creare Tanti cavalli Fino a quando non trovano Il Garibaldi finale Cioè quello Super hyper OP Comunque Sarà loro Secondo me è un regalo Veramente perfetto In più Direi che Oltre che Il cavallo E la stalla Regalerò anche Di attrezzi Per le varie costruzioni Che vogliono fare Quindi secondo me È un regalo di coppia Perfetto Ovvio Sta a voi Poi ragazzi Darmi anche dei voti Nei commenti Su quanto dovete prendere Per un regalo del genere Ma prima direi Dormiamo E anche Light Mi ha fatto un regalo Uh Piano piano aumentano E quelle casse là Sono inutili Probabilmente perché Non le ho taggate io Con scritto sopra regali Fa niente Poi le sistemeremo Però più avanti Arriverà il video Delle reazioni dei regali Dei miei amici Quindi lasciate un mi piace Ora vado a fare Prendiamo le mucche Perché mi serve della leather E le leghiamo direttamente qua Prendiamo qua la cassa Lasciamo dentro Tutti quanti Gli attrezzi nuovi Che abbiamo fatto La name tag al centro Facciamo un bel libro Dove si può scrivere Tutto quanto Un bel messaggione Organizzato Il messaggio è abbastanza lungo Ciao amici Ho visto che Nico Vi ha procurato Un cavallo bianco Ma so che per voi Garibaldi dovrà essere Molto più prestante Quindi Ho deciso di regalarvi Una nuovissima stalla Costruita da me Con all'interno Garibalda Che vi darà La possibilità Di ottenere Il vostro Garibaldi perfetto Oltre che per fare Delle esplorazioni di coppia Ovviamente Essendo che siete in due Il regalo è doppio Visto che state costruendo tanto Ecco Dei nuovi attrezzi Per voi Firmiamolo Come regalo Di Natale Da parte Di DeMarc Ok Perfetto Campioncini Direi che questo È il regalo perfetto Lasciamo qua il libro Regalo di Natale Da parte di Mark E con questo Ci possiamo fermare qua Spero che questo video Vi sia piaciuto Campioncini Noi ci fermiamo Ci salutiamo E ci vediamo in un prossimo video Lasciate un mi piace Commentate Che voto mi dareste Da 1 a 10 Ciao